E' io, Mario! Benvenuti ad un nuovo video. Innanzitutto metti like. E detto questo, buona visione. Oh, è lei che ne hai messo. Te spacco, metti like. What the fuck, man? Ma sai? Beh, devi non parlare... Blonde? Ehi, questo è abbastanza buono! No, chat, allora... Allora, innanzitutto... Innanzitutto non voglio... Che voi vediate questo tipo di content. Quindi spero non vi sia festivo che mi metto qua davanti. Hi, John! Yeah, we are cooking in my heart! Ovviamente si scherza, assolutamente. Alidia è libera di fare quel che vuole finché rispetta le gole di Twitch. Assolutamente. Comunque torno a vedere queste cose. Ma che fai, cane? Eh, Sasha! Un po' di content per ridere! Potresti mincare la canta della signorina senza lattosio? Non posso sapere a cosa riserve? Per una ricerca scolastica! Ci hanno detto... Ci hanno detto... Di portare tre animali come esempio. E quella come cagna... No! Ma è piaciuto dal culo? Eh, quello... Va la sera di verbole. Uscire dall'autostrada. Non era un'autostrada. Era una strada principale. Extra... Alza il dito! Abbassa il dito se mi hai fatto un incidente! Se mi è andato fuori strada! Figlio di puttana! Sardegna! Non sciverò mai più in vita mia in quel posto di merda! Lo dico veramente solo perché ho fatto un incidente! Non penso sia veramente un posto di merda! Anzi, penso che le persone siano molto carine! Molto cordiali! Non me le aspettavo! Però mi state sul cazzo! Non sciverò mai più! Andiamo a piacere... Andiamo ad incontrare il Brasile S. S. A 30 all'ora! Capito? Ti voglio dire! Andavo a 30 all'ora! Proprio si è ridotta così! Penso che andavo a 50! Non si sono aperti neanche gli airbag! Andavo pianissimo! Mi ha accecato quel cazzo di sole! Sì, sì! Mi stavano... Perché andavo pianissimo! Ma che riparata! L'ho dovuta... Ehm... Mi da di demolire! Ma non demolire! Avete capito che intendo! Com'è successo? E praticamente la sardina ha tutte strade di merda! Io... Esco... Da una strada per rimettermi in un'altra! Vado dritto! Sole in fa... Rottamare! Sole in faccia! Continuando dritto! Scendo sul dirupo! Ma... Ma mettete un cazzo di... Di qualcosa, no? Col sole in faccia! A 30 all'ora! Non ho visto un cazzo! Ho detto vado piano 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 dritto! Porco Dio sotto ne ho un dirupo! Io veramente! Non lo so! Mettete un cazzo di card rail! Ma come cazzo? Io ho... Tiltato a vita! Non andrò più in... Ivar, grazie a follo! Più in... In Sardegna! Giù! Non ci andrò più! Non ci andrò più! In Sardegna! Oh! Ma? Ma? Lo shield ball non è proccato? E mi ha fatto... No, raga... Scusate! Scusate chat! Ma qua è buggato! Avevo lo shield ball up e non è proccato! Non può contare, ragazzi! Mi spiace! Ragazzi, questo non può contare! Mi spiace! Ammon, lei che è il giudice! Ha visto che è stato un bug! Io ho calcolato che proccasse lo shield ball! Che cazzo ne so se non procca! Che è colpa mia! Non l'avrei fatta quell'azione! È palesemente buggato, ragazzi! No, 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 no! Non ci siamo! Chat! Allora! Signor Ammon! Sì! Insomma è... Cioè, nel senso... Non credo si possa risolvere tutto, però dipende. Se una persona ti offende, credo che... In... La maggior parte del peso di te di solito potessi tranquillamente non darglielo. Anche... Te la faccio semplice! Diciamo che io... Ecco, ho tradito Valentina! Ok? Io tradisco Valentina... Vengo in chat, voi lo venite a sapere, poi vedi dei cani, sei un pezzo di merda. Lei è tradita, non si fanno queste cose. Ora... Io so che è vero... Che è stato così. Però posso tranquillamente non dargli peso. E dire, ok, io già lo so, mi devo... Già mi sento magari una merda per quello che ho fatto. Devo da pure... Sentirmi ancora più merda... Per... Come mi stanno trattando in chat? Per dirti? No? Questa sarà... Lot contesti di smartphone comunque. Basta, così. Quindi anche se una cosa è vera ed è così... E me lo dice qualcuno altro, posso tranquillamente non dargli peso. E dargli meno peso di quello che potrebbe essere solido. Capito? Che ti voglio dire, Sasha? Che ti voglio dire, Sasha? Ho in starting to tilt, porco... Ho trollato, ho trollato. Dove giocare meglio con la Q. Non dove ne darlo subito. C'ho la ulti tra poco. Comunque era wardato per forza. Come c'è da sapere che stavo lì? Per forza warded. Vai team, vai. 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 Caidalo. Caidalo. Tipo dietro. Posso ripare dietro. Tipo dietro. Sto tipando dietro. L'apretto l'ho presa. Tipo dietro. Tipo... Fight. 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 Zillian flash. Va bene. Bravi. Meno male mi seguono le golle. Meno... Riusciamo a fare qualcosa. Bravi. Zillian flash. 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 1, R— Tchidess! Cosa c'est la vérité? Cosa c'est la vérité? Cosa c'est la vérité? J'ai avuto! Si, c'est la vérité! No, non... Fast and Furious Chat perchè non ha funzionato? A.O. No Chat chiedo scusa ho scammato Per lo scam chiedo scusa do 200 pagnotta a tutti Colpa mia, colpa mia, colpa mia Kendrax con il Twitch proprio primo mese Per il signor Kendrax, Kendrax Ravviva live seduta stante Grazie mille del supporto E benvenuto con le cani e cane Riavviando live non vedrai più la pubblicità Una volta riavviata la live puoi digitare in chat Il comando punto e scambio telegram per entrare nel gruppo telegram Delle cani e cane Resta live per scoprire tantissime novità riguardo questa streaming Se sei abituato alle streaming di altri streamer italiani Molto probabilmente questa stream ti sembrerà Il top del 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 top A few moments later Del top del top del top del top del top del top One eternity later Del top 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 So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one Del top del top Godi da streaming senza pubblicità e benvenuto nelle cani e cane Ma la torre chi cazzo l'ha tancata? Che cazzo? Che cosa ha fatto? Il bot fa un'azione aggressiva, quindi immagino che sia il jungle robot. Eeeeh immagino un bel cazzo di niente! A me piace fare quello che piace a voi appunto, l'ho appena scritto. Ma non è così, non è vero. Perché ti rivedo, il fatto che a te piaccia qualcosa non hai detto che all'altra persona piaccia farlo con te. Cioè per dirti, ora te la spiego meglio, te la spiego meglio, ok? Anche a me piace giocare alle slot, ok? Ma preferisco gamblare con le persone che conosco rispetto a gamblare con le persone che non conosco perché mi ci diverto di più, tra piccolette. Ma perché erano tre toppe e il mio team continua a perdere? o l'ho capito perché? o l'ho capito! Porca droia, ma... Wait, what? Come cazzo è possibile, scusate? Ma perché? L'ha fatta apposta, raga! L'ha fatta apposta per forza! Ma l'ha fatta apposta per forza, questo! In vostro caso vi mando bacione e ci vediamo, non so quando. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!